L'ultima generazione cari amici, l'ultima generazione, i giovani di ultima generazione protestano, c'è un movimento giovanile denominato ultima generazione, beh il titolo è appropriato, questi giovani intuiscono di essere l'ultima generazione, l'ultima generazione dell'umanità e sì perché il nostro pianeta è fortemente inquinato, si sta trasformando in una fogna a cielo aperto e aveva cominciato Greta Thunberg, ora il discorso in Italia è portato avanti da questo movimento, ultima generazione, io la notizia l'ho trovata sul grande web journal, Fanpage, ha fatto molto bene Fanpage a parlare di questi giovani di ultima generazione, mi meraviglio tanto però che una tale notizia non sia messa in prima pagina sui grandi giornali quotidiani, Corriere della Sera, in prima pagina, Corriere della sera, la Repubblica, la stampa, il resto del cardino, il messaggero, il secolo XIX eccetera, mi meraviglio tanto che questa notizia non sia data in apertura di tutti i telegiornali, delle televisioni pubbliche e private, io mi meraviglio tanto perché è questa la vera notizia, la vera notizia non è che a Palazzo Ghigi ora ci sia Giorgia Meloni che ora in Italia sia in mano a quello che è chiamato il governo del popolo, la vera notizia non sono le scaramucce tra maggioranza e opposizione in Italia, ma si tratta di notizia che riguarda tutto il pianeta, ma sentiamo qualche frame del video che io vi metto nel risultato del mio video, sentiamo qualche frame, sentiamo. Lei pensa che questa protesta sia inutile? Sì. Negli scorsi mesi abbiamo seguito gli attivisti di ultima generazione, abbiamo partecipato alle loro riunioni, mentre protestavano nel giorno della prima alla scala o bloccavano il Monte Bianco. L'inazione climatica significa ecocidio, sesta estinzione di massa. Abbiamo cercato di capire cosa li spingesse a compiere queste azioni di disobbedienza civile non violenta. Spesso mi si chiede quali conseguenze siamo pronti ad accettare, sono pronto, non ho una risposta, questo pensiero è proprio messo in pausa. Sono disposti a rinunciare a tutto pur di salvare il pianeta, anche a ciò che comunemente chiamiamo libertà. Vede, hai sentito, sono pronti a rinunciare anche a quella che noi chiamiamo la libertà. Beh sì, beh sì, è vero, è vero. Avete ragione, giovani di ultima generazione, avete ragione al cento per cento. Ma siete, mi dispiace dirlo, siete dei profeti inascoltati. Avete ragione, ma siete dei profeti inascoltati. Per salvare il pianeta si dovrebbe tornare al modus vivendi, narrato in qualche celeberrimo film come Riso Amaro, c'è un film intitolato Riso Amaro, poi c'è un altro celebre film intitolato L'albero degli zoccoli, poi c'è anche un altro celebre film intitolato Pane, Amore e Fantasia. Sì sì, sì sì, dovremmo tornare al modus vivendi, al modus vivendi, che è descritto in quei film che ho nominato L'albero degli zoccoli, Riso Amaro, Pane, Amore e Fantasia, sì 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 sì. Il grande Paolo Pasolini aveva intuito la situazione e la descriveva nei suoi definiti scritti corsari sul Corriere della Sera, in uno dei suoi scritti corsari degli anni 70, mi pare, 1970-75, quindi 45-50 anni fa, per Paolo Pasolini divideva la storia, non avanti Cristo e dopo Cristo, la scomparsa delle luciole e dopo la scomparsa delle luciole, perché da sempre noi avevamo consuetudine a vedere le luciole, le luciole, sì sì, l'estate, la sera, in campagna, si vedevano le luciole, le luciole, poi da un certo momento in poi, in campagna, la sera, le luciole sono scomparse, per Paolo Pasolini scrive il tempo prima della scomparsa delle luciole e il tempo dopo la scomparsa delle luciole, le luciole sono scomparse quando per aumentare la produzione agricola, noi abbiamo cominciato ad usare i fertilizzanti chimici e gli anticrittogammici che hanno aumentato la produzione, la produzione alimentare, ma hanno fatto scomparire le luciole e poi è scomparsa anche l'acqua potabile delle risorgive, io l'ho vissuto perché sono nato nel febbraio del 1940 e io l'ho conosciuto quel tempo, era il tempo in cui ancora non c'era la plastica, la plastica è tanto utile, ma sappiamo cosa sta combinando la plastica, basta vedere i cassetti della spazzatura nelle città ma anche nei paesi, io l'ho vissuto il tempo, il tempo di prima della scomparsa delle luciole, quando tu in campagna percorrevi un sentiero e magari vedevi una risorgiva, cioè vedevi un posto dove sgorgava un po' di acqua e tu la potevi raccogliere quest'acqua col palmo della mano e la potevi bere, ora non lo puoi più fare, ora si deve bere o l'acqua nelle bottiglie di plastica che viene venduta nei supermercati oppure l'acqua dei rubinetti, la quale è sterilizzata con certe procedure. allora, questi giovani dicono la verità, ma dicono, mi si passi ad esempio, la stessa verità che diceva Gesù, beati gli ultimi perché saranno i primi, oppure a chi ti dà uno schiaffo, tu porgi l'altra guaccia, è la stessa verità, c'è una verità che non potrà trovare accoglienza. Questi giovani dicono che sono disposti a rinunciare anche alla libertà, beh sì, infatti non c'è rimedio al disastro ecologico, si tratta di un vero e proprio matricidio, matricidio, il genere umano figlio di madre natura è un matricidio, sta uccidendo madre natura ed ora entriamo nella fantascienza, ci può essere la salvezza del pianeta, questi giovani hanno detto che per salvare il pianeta loro si definiscono ultima generazione, hanno detto che sono pronti a rinunciare a tutto, a tornare a vivere come si viveva una volta, come si viveva ai tempi del film L'albero degli zoccoli, del film Riso amaro, del film Pane amore a fantasia, a rinunciare a tutto e sono pronti a rinunciare anche alla libertà, per cui ora qua mi si consenta di fare un po' di fantascienza e la salvezza del pianeta potrà esserci, potrà esserci ma è fantascienza ovviamente, è fantascienza, potrà esserci soltanto se ci sarà, è fantascienza e mi si perdoni, questi giovani hanno detto che sono pronti a rinunciare a tutto, anche alla libertà, è fantascienza, chiaro? L'hanno detto i giovani, sono pronti a rinunciare a tutto, anche alla libertà e la salvezza del pianeta si potrà realizzare, è fantascienza, lo ripeto, soltanto se ci sarà un governo mondiale, è fantascienza, non prendetevela con me, questi giovani le hanno detto, sono pronti a rinunciare anche alla libertà, pur di salvare il pianeta, capito? E se ci sarà un governo mondiale, dittatoriale, un governo mondiale dittatoriale che con la forza, con la forza, smantelli tutto l'apparato industriale dell'intero pianeta, Stati Uniti d'America, Giappone, Cina, India, eccetera, che smantelli con la forza, eh sì, sì, è fantascienza, ditemi voi, poi come pensate che si possa salvare il pianeta? Ditemelo voi, questi giovani le hanno detto, che pur di salvare il pianeta sono pronti a rinunciare a tutto, anche alla libertà, allora consentitemi di fare un po' di fantascienza, il pianeta, allo stato in cui siamo arrivati, 8 miliardi di abitanti, tutti potentissimi inquinatori, eh, anche tu che mi stai ascoltando lo sei, anch'io lo sono, Gesù diceva, chi è senza peccato scaglierà prima pietra, si salverà il pianeta solo se si costituirà un governo mondiale, dittatoriale, che con la forza, con la forza, smantelli, smantelli l'intero apparato industriale mondiale, sì, con la forza, con la forza, sì, sì, che diceva Machiavelli, che il fine giustifica i mezzi, se il fine è di salvare il pianeta, questi giovani hanno detto che per conseguire questo fine, loro sono pronti a rinunciare a tutto, sono pronti a rinunciare anche alla libertà, io cosa volete che vi dica? Io dico soltanto che questi giovani hanno ragione, hanno ragione da vendere, non c'è niente da dire, il Santo Natale e il Capodanno sono appena trascosti, non c'è forse da vergognarsi di quello che abbiamo fatto? La vigilia del Natale, il Santo Natale, Santo Stefano, poi la notte dell'ultimo dell'anno, non c'è forse da vergognarsi di quello che abbiamo fatto qua in Italia, ma anche in tutto il mondo, non c'è da vergognarsi? Se voi non vi vergognate, so fare i vostri, ma io mi vergogno di ciò che è avvenuto il 24 dicembre, il cenone della vigilia, di quello che è avvenuto il Santo Natale, quando è nato Gesù, di quello che è avvenuto la sera del 31 dicembre, di quello che è avvenuto il primo dicembre, io mi vergogno e se voi non vi vergognate so fare i vostri, questi giovani hanno ragione, hanno ragione da vendere, ve lo dice Serafino Massoni, che è questo signore qua, vedete Serafino Massoni, Serafino Massoni ha quasi 83 anni e conosce quel periodo in cui l'umanità non lo inquinava il pianeta, non lo inquinava il pianeta. Ok cari amici, ok cari amici, avete ragione da vendere, cari giovani dell'ultima generazione, ma credo che voi siate, mi dispiace dirlo, dei profeti inascoltati, perché il mondo, l'umanità si gira dall'altra parte, a meno che, a meno che, e qua faccio della fantascienza, non si formi un governo mondiale che con la forza, smantelli, smantelli l'intero apparato industriale mondiale, in maniera che l'umanità torni a vivere come si viveva prima della scomparsa del lucio, come si viveva, come è stato descritto nel film, l'albero degli zoccoli, riso amaro, pane amore e fantasia. Ok giovani dell'ultima generazione, a voi tanti cari saluti da La Cometa dell'Imperatore.